meravigliosa penny di venerdì 18 penso ciao dolcissima bacetto il meraviglioso stenditoio delle coperte una bella giornata di sole per loro e speriamo che duri anzi cominci visto che credo non ricordo male che la primavera dovrebbe cominciare il 21 di marzo vero che di dobbiamo fare pure l'erbetta amore giochiamo alla palla si candy c'è vento vieni candy dai io poi cerco gli storti vabbè si dovrebbe tenere una telecamera accesa otto ore al giorno perché sono veramente di un amore infinito e non è sempre quando poi si prende si riprendono che riusciamo a dimostrare veramente quanta dolcizza e vita sono ok si sbaciucchiano attraverso la rete no candy no per il possibile compriamo un tagliaerba e soprattutto e soprattutto quelle che crescono di lato i margini che non ci piacciono per niente anche se hanno dei fiorellini che ci mettono a buon umore d'accordo qui si è mangiato qui si è bevuto si è corso si è giocato e ora un po' di pennichella dai che fra un po' lepiamo anche quella plastica e vediamo un attimo come fare e come sempre facevo ciao ciao